C'è la nostra Kirby, la nostra Kirby Brown. Kirby chiede se può andare in bagno. Ray a questo punto diventa furioso. James urla muori, muori! Finché lei viene costretta a sdraiarsi in terra e appunto è costretta a rimanere immobile, completamente immobile, per cinque ore. Lei era così profondamente disperata che alla fine finì per farsi tutto addosso, ma prima ancora racconta che fu presa da grossi conati di vomito. Una delle corsiste, che è poi quella che in seguito ora ci racconterà com'è andato, si chiama Beverly Bunn. A questo punto, prima del gioco del samurai, Beverly va da James e gli dice che, siccome non tutti hanno accettato di rasarsi completamente la testa, e tra questi ovviamente c'è anche una riluttante Kirby, a quel punto gli dice, va bene, accetto questa cosa, mi taglio i capelli. James la guarda con grande disprezzo e le dice semplicemente puoi tagliarti i capelli, non puoi tagliarti i capelli, non mi interessa niente, a questo punto sei una perdente. Beverly dice che questo tipo di risposta la stordisce e la fa preoccupare a proposito di come lei vede il corso nella sua interezza e vede James preso totalmente dal suo egotismo e dalla sua arroganza. Beverly dice che erano trattati in un modo totalmente bizzarro perché dice dopo aver pagato 10.000 dollari ci viene detto non puoi parlare con James finché lui non ti dà il permesso, non puoi parlare con James, non puoi mangiare con lui, se lui si muove attraverso il camp del corso con la sua macchina elettrica non sei autorizzato né a salutarlo né a riconoscerlo né a guardarlo né a dirgli hi. Quando il gioco del samurai finisce verso mezzanotte i guerrieri, gli aspiranti guerrieri vengono portati fuori nel deserto per quello che James chiama la vision quest ovvero un'esperienza di totale meditazione e di immersione nella natura che lui dice essere una tradizione spirituale dei nativi americani. la vision quest in realtà è un'idea che lui ha preso dagli indiani Lakota ed è una cerimonia inclusa con la sweat lodge con la tenda sudatoria nella quale praticamente i personaggi gli aspiranti guerrieri devono passare molte ore in una zona desertica da soli giorno e notte senza mangiare senza bere e meditare. Quindi durante il percorso durante il vision quest i corsisti vengono sottoposti a 36 ore di totale digiuno e astinenza d'acqua prima della tenda sudatoria vengono lasciati da soli nel deserto dell'Arizona con un sacco a pelo sebbene James furbamente offra loro un poncio peruviano per altri 250 dollari. Dopo questa esperienza i partecipanti vengono richiamati a un enorme buffet e invitati a mangiare una abbondantissima colazione e a bere tantissima acqua prima di entrare nella tenda sudatoria. La padrona del residence dove si dove si svolge il lo spiritual warrior dice che dopo diciamo l'evento cui i partecipanti sono stati sottoposti a due giorni senza acqua e senza cibo ha detto che ha visto molte facce stravolte e provate dalla stanchezza e non dimentichiamoci che in precedenza c'è stata l'esperienza del breathwork e l'esperienza del samurai game. grazie a tutti Grazie a tutti. 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 tutti i partecipanti intorno alla tenda sudatoria che lui dice essere basato su un'antica cerimonia svolta dai nativi americani che lui dice di aver studiato. Dice sarà la più intensa esperienza della vostra vita e proverete il più intenso calore che abbiate mai provato in tutta la vostra vita ve lo garantisco vi sentirete come se stesse per se steste per morire ma vedete il vero guerriero spirituale il vero spiritual warrior ha conquistato la morte e quindi non ha più paura e non ha più nemici per tutta la sua vita da questo momento a per sempre perché la più grande paura che ognuno possa incontrare nella sua vita è la paura di che cosa della morte dovete mettere un punto fermo dove vi arrendete a ciò che state provando e dite a voi stessi è ok posso morire. Beverly dice quando vedi la tenda sudatoria la cosa mi fece preoccupare perché pensavo che questo era molto più che un normale tp quindi la tenda indiana con un buco per la ventilazione sopra era una specie di basso di bassissimo tempio coperto con teli di plastica e con alcune coperte sopra mi preoccupava che stavamo andando cioè stavamo andando verso il soffocamento ma pensavo che siccome James sapeva quello che faceva e l'aveva già fatto precedentemente potevamo fidarci di lui quindi 60 persone a questo punto entrano all'interno della tenda sudatoria che era alta meno di un metro e 10 e larga intorno ai 12 metri da lato a lato con un appunto come ho detto con